Si chiude in un nulla di fatto e in uno sterile ping pong la commissione dedicata alla risoluzione del nodo TAP. Per la prima volta sono stati ascoltati i sindaci salentini e quello di Brindisi e mentre il progetto del gasdotto va avanti a vele spiegate, maggioranza e minoranza hanno finito per litigare. I comuni interessati proponevano la verifica di siti alternativi a San Foca dopo l'apertura offerta dal Ministero dello Sviluppo a valutare altre localizzazioni ed enti disposti ad ospitare l'allaccio finale dell'impianto. Questa è un'attività che spetta al Governo e alla TAP, puntualizzato il Presidente in trona, che ha chiesto ai due soggetti un elenco di siti alternativi nel rispetto della sicurezza ambientale e del ristoro economico dei territori. In tema di energia, ha aggiunto l'assessore Nicastro, lo Stato è sovrano e la Regione ha le mani legate, ma Mazzei e Forza Italia li ha smentiti. L'accordo Italia-Albania, ricordato, risale al 2009. Nel 2012 sono partiti i sondaggi a San Foca. Se l'Aggiunta Vendola all'epoca non avesse dormito, la situazione ora sarebbe diversa. L'unica mediazione, ha osservato il consigliere d'opposizione, spetta proprio alla Regione Puglia, chiamata ora a fare la cerniera tra Governo e territori. In assenza di proposte concrete però, il progetto è destinato ad andare avanti.